Marco, pronto al rientro? Sì, non succede niente in questi giorni, diciamo che sto recuperando appieno. Come hai visto la squadra Iesi? L'ho vista bene, purtroppo come avete visto tutti è stata una partita un po' strana, quel gol dopo pochi minuti, poi la partita l'abbiamo sempre fatta noi. Niente, è un pizzico di sfortuna, qualche errore di troppo, però ci dobbiamo rimettere in carreggiato. Dalla testa alla coda, dalla prima in classifica al Boiano? Partita molto insidiosa perché chiaramente abbiamo tutto da perdere, non dobbiamo lasciarci sfuggire questa occasione di risalire la classifica, però senza pensare che comunque giochiamo con l'ultima in classifica e che verrà qui a fare la partita della vita sicuramente. Le tue sensazioni dopo la partitella di oggi? No, va bene, fisicamente sto recuperando, abbiamo fatto il lavoro Iesi completo in settimana, quindi speriamo di essere a posto per domenica.